Nel settembre del 2011 il Comune di Firenze lanciò un concorso dal titolo Florence iCare, invitando gli investitori privati ad adottare un monumento finanziandone il restauro. Sei mesi più tardi furono diffusi risultati, una sola manifestazione di interesse per la colonna San Zenobi in piazza del Duomo. Si tratta di un aneddoto che meglio di ogni altro racconta la difficoltà di trovare mecenati disposti a investire in Italia e il motivo è presto detto. Le tasse troppo alte applicate sulle donazioni scoraggiano la maggior parte dei filantropi. Per questo il sottosegretario ai beni culturali Ilaria Borletti Buitoni, intervenendo a un incontro a Palazzo Strozzi dedicato proprio alla scomparsa della filantropia, ha annunciato l'intenzione del governo di rivedere il rapporto tra investitori privati e sistema pubblico, semplificando la burocrazia e introducendo le deduzioni fiscali sulle donazioni. Provvedimenti inevitabili secondo il presidente della fondazione Palazzo Strozzi, Lorenzo Bini Smaghi, soprattutto in questo momento. Lo Stato ha sempre meno risorse, è sempre più difficile dedicare fondi alla cultura, all'arte, alla ricerca e dunque bisogna coinvolgere i privati, bisogna fare un po' come fanno gli americani, non necessariamente copiare il modello ma cercare di attrarre i privati e questo bisogna farlo da punti di vista fiscale aiutando ed è possibile farlo senza creare un buco nelle casse dello Stato, ma anche coinvolgendo i privati nella gestione. Proprio come fa la fondazione Strozzi che grazie al contributo dei suoi tre soci privati genera un indotto a Firenze di circa 30 milioni di euro, allestendo mostre importanti come quella di Pontormo e Rosso Fiorentino, un successo internazionale che testimonia dell'efficacia del sistema misto pubblico privato, per lo meno in questo settore.